Mercoledì, 23 gennaio 2019, Memoria di Santa Emerenziana Dalla lettera agli ebrei Fratelli, Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'aver sconfitto i re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poi è anche re di Salem, cioè re di pace. Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Ora, sorge a somiglianza di Melchisedec, un sacerdote differente, il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Mi è resa infatti questa testimonianza. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Dal Salmo 109. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il Principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Era lì un uomo che aveva una mano paralizzata. Stavano a vedere se lo guariva il giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse l'uomo che aveva la mano paralizzata. Alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò a loro. È lecito, in giorno di sabato, fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo. Tendi la mano. Egli l'attese, e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani. E tennero consiglio contro di lui, per farlo morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.